DEF CON 1 Sì, come, tra poche complicate di raptor? Cioè fra due mesi, più o meno Ah, fra dieci giorni Ho fatto il regalo che qua dentro Lui basta che tira la leva Vieni qua raptor Vieni, tira la leva Porca cazzo Porca cazzo Porca cazzo Porca cazzo Porca cazzo Cosa? Ciao, io mi chiamo Tate e questo è il mio ultimo episodio Raga, ma esplode tutto il nether adesso Oh, cazzo, è un morte in gasta Porco schifo, le radiazioni Ma è esploso? Sì, è che è esplosa Ok, vado a vedere Raga Ok, radiazioni in commenta Porca mignotta Oh, cazzo Porco, porco Che sono quelle robe che stanno là? Emerald, tippami Regro di merda Regro di merda Emerald, dimmi quando hai il comando pronto Aspetta, do scura a mano Ok, vai Tippami, tippami, tippami Ancora non c'è dentro Ancora non c'è dentro No, non ditemi che devo riavere il pacchetto Perché tiro un pugno nel monitor No, 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 no Porca Ho mezzo qua Ho il potere in mano No, e quindi c'è solo raptor nel server Cazzo sono entrato Tippami, tippami No, 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 tippami No, no Tippami, raptor Setti là, un attimo Spera, raptor lino Tutto il contrario, coggione No, 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 no in casa che problemi già in casa sto per fare la famiglia che problemi hai gli sto a morire date c'è un mezzo cuore io c'ho tre cuori in mezzo emerald allora hai poco tempo per fare il backup del server perchè sto per spaccare tutto no 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 rapt non c'è nel backup del server non fare cazzate eh ma dove cazzo rapt c'è un boom creeper vicino è lui il creeper allora vediamo sta cosa da qui perfetto lo useremo raptor raptor per favore raptor raptor ok raptor vabbè l'industria tnt puoi fare quello che cazzo vuoi guarda l'industria tnt fa un danno della madonna vedi sicuro non di più da noi ma possiamo fare qualcosa porca buttana raptor ecco vabbè ok sei felice adesso sei felice abbastanza quindi ragazzi cosa faremo in questo episodio ah tu stavi registrando tutto questo si 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 tu ti finisci sul canale il mio è la tv verità vedrete il terrorista di raptor non so perché sono stati blocchi terrorista terrorista no 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 raptor la smetti raptor veramente non puoi buttare una serie così per favore dai raptor 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 ti vanno raptor abbiamo il backup non abbiamo un backup raptor ti vanno giuro raptor 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 non c'è backup so fa niente so fa niente no non mi fido da un keeper senza braccino lo sai mi sono fido da due bracciapossenti raptor perché spacchi i martelli alle giostre e i bambini non ci possono più giocare esatto oppure perché ci metti i bambini sul martello allora ho capito questi episodio ragazzi non verranno nulla di serio cioè non si fa nulla cioè proprio raptor io pensavo stessi scherzando raptor raptor no no raptor senti qua la roba è seria addio no 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 raptor cos'è fa cosa ha fatto l'ho messa l'ho messa è stupido no ho solamente sfoltito l'albero e albero però non mi viene sfoltito il raptor no e minchia bello l'albero adesso che figata porco perché non ha distrutto un cazzo in realtà ha distrutto l'albero madonna raptor come in maniera in maniera positiva madonna lo schifo è venuto sto codo oddio a me piace e quindi manca mezzo albero si infatti non c'è più un cacchio guarda che cos'è tutto sto codo vabbè io ho picchiato tutti con i picconi ragazzi vi prego fate sì che vostro sia l'ultimo episodio di questa serie di merda no 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 ma chi è che sei scemo vabbè e niente ragazzi come avete visto questo qui è stato un episodio tanto così puro cazzeggio tranquilli abbiamo il backup forse lo spero e niente ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.